onestamente non so voi ma io non ci credevo più di portare a casa un punto perché insomma l'Empoli forse stava stretto per fino a 1 a 0 ma sì noi ci abbiamo creduto ci abbiamo creduto e chiaramente con un po' di fortuna siamo riusciti ad ottenerlo e credo che vadano fatti complimenti anche all'Empoli per come ha interpretato la partita perché ci ha creato diversi grattacapi però in una giornata così riuscire a portare via un punto penso sia importante per quello che sarà poi dopo la prossima partita anche a livello di morale dove ci aspetta un'altra partita tosta contro una squadra che in salute anche lei dopodiché avremo poi dopo un mese per lavorare e per sistemare tutte le piccole cose che ci devono far far meglio. Senza aspettare la ripresa del campionato cosa che non va perché insomma c'è questa involuzione che pare non conoscere una fine perché già l'ultima partita in casa con la Juve Stabia sicuramente non abbiamo brillato oggi insomma abbiamo regalato completamente un tempo poi piano piano si è riusciti a fare qualcosa ma perché vi siete spinti quasi alla cieca davanti a basse? Non lo so non lo so nel senso che oggi era un campo quindi l'ho vissuta da dentro ho visto una difficoltà ad esempio quando eravamo senza palla a difenderci tutti e undici e abbiamo lasciato un po' troppe situazioni a loro questa è una cosa che va migliorata perché quando abbiamo la palla riusciamo magari a fare una buona trama ad arrivare anche là davanti però credo che sia importante anche la fase di non possesso e sarà sicuramente una cosa a migliorare. Lo spirito io e i miei compagni li vivo tutti i giorni tutti danno il cento per cento e quindi credo che non si possa dire niente è chiaro che circa un mese e mezzo ormai che abbiamo lasciato magari qualche punto di troppo in giro e che non ci ha permesso ad oggi di avere tre o quattro punti in più classifica che sarebbe stata tutt'altra classifica non ci sarebbero tanti tanti discorsi da fare poi non aiutati neanche dal fatto che comunque davanti quelle due stanno sbagliando poco o niente quindi hanno fatto un grandissimo giornone d'andata. Noi giriamo a 40 punti siamo comunque credo soddisfatti di quello che è stato fatto sicuramente si può migliorare e si deve migliorare perché abbiamo la possibilità. Concentriamoci su Modena, arriverà il Bente Godi insomma si chiude il 2012 con questa sfida davanti al vostro pubblico che è anche a Empoli ma non c'è bisogno di sottolinearlo insomma vi ha incitato dal primo all'ultimo minuto. Vabbè loro sono straordinari come sempre da cinque anni che sono qui in qualsiasi categoria in qualsiasi situazione sono stati sempre impeccabili sotto questo punto di vista qui e cerchiamo di recuperare bene di concentrarci nella partita contro il Modena che non sarà semplice e cerchiamo di regalargli una vittoria che ci permetterebbe poi anche di affrontare a sosta con tutta serenità.